Giorni di febbrile attesa tra i tifosi del Teramo per i possibili sviluppi sul fronte societario. Non filtra nulla sull'esito dei contatti intercorsi tra Luciano Campitelli e il patron del Francavilla, Gilberto Candeloro, ad oggi ancora il maggior pretendente ad una quota societaria del sodalizio bianco-rosso. Il filo tra i due presidenti non si è mai interrotto. Domani, o al più tardi il giorno seguente, le parti dovrebbero aggiornarsi per una risposta definitiva. Se Campitelli non dovesse poter contare sul supporto economico dell'imprenditore frentano, la prossima stagione del Teramo sarà programmata con la priorità assoluta dell'equilibrio di bilancio. Diverso invece lo scenario con Candeloro in società. La disponibilità finanziaria del Teramo aumenterebbe e anche il mercato a quel punto potrebbe essere differente. Per il momento i dirigenti del diavolo devono muoversi con oculatezza, cercando di mettere le mani sui migliori giovani dei vivai italiani e provando a scommettere su qualche giocatore in rampa di lancio che si è messo in luce in Serie D. Rispondono a queste caratteristiche gli attaccanti Luca Di Renzo e Vito Leonetti, che hanno fatto le fortune di Prosesto e Vastese. Entrambi sono sul taccuino del Teramo per poter comporre una prima linea che potrà contare, oltre al confermato bacio terracino, a meno di offerte irrinunciabili, anche su Gianmarco Piccioni, 10 gol con il Sant'Arcangelo, prossimo alla firma. Il taglio dei costi passa anche inevitabilmente sul sacrificio di alcuni contratti pesanti. San Domenico non sarà riscattato proprio per questo, mentre Nebil Caidi potrebbe salutare Teramo dopo sei stagioni. Il difensore centrale a mercato, Regina, Rimini, Ravenna e Triestina si sono informate, particolare che lo allontana dai colori biancorossi. In stand-by la situazione di Amadio, come quella di Sales e del rientrante Barbuti. Oltre al portiere Lewandowski, che rimarrà, tornano dai rispettivi prestiti anche Mirko Spighi e Mattia Altobelli. Il primo dal Catanzaro, il secondo dal Siracusa. Il direttore sportivo Sandro Federico valuterà insieme al tecnico Zichella, dopo aver valutato la sostenibilità dei loro contratti in scadenza nel 2019, se possono fare al caso del Teramo. Al momento sono a tutti gli effetti nella rosa del prossimo campionato, ma il mercato è appena cominciato.